rieccoci amici di canottaggio video ancora in collegamento da gavirate per questa importante regatta internazionale adaptive con un amico con giovanni calabrede ciao giovanni grazie per l'amico marco ciao a tutti allora dai rifacciamo vado amici di canottaggio video di nuovo qui in collegamento da gavirate di nuovo per parlare di adaptive rowing e appunto anche della società organizzatrice di questo importante appuntamento internazionale con un amico con giovanni calabrede ciao giovanni ciao marco a tutti allora giovanni dicevamo prima con il presidente piero perrucchini che al tuo arrivo circa 12 anni fa qui erano i 6 se non sbaglio poco poco di più forse esagerato per difetto adesso siamo qui in 300 per una società che continua anno dopo anno a vincere la classifica generale a piazzare i suoi atleti nazionali a vincere titoli italiani a distinguersi anche come fiore all'occhiello della federazione per l'attività dell'adaptive rowing una prima fondamentale domanda come è stato possibile tutto questo non lo so se realizzato si si è realizzato si sta realizzando un sogno quello che all'inizio era un sogno oggi sta diventando piano piano realtà quando sono arrivato tutti mi hanno chiesto effettivamente dopo una medaglia olimpica quali erano i miei obiettivi cosa intendevo fare le aspettative dal punto di vista agonistico per la canottierica virata io mi sono solo limitato a dire che lo sport il canottaggio lo sport che in tutti questi anni mi ha appassionato che mi ha regalato tanto tante soddisfazioni tra cui la medaglia olimpica e che volevo fare male quanta più gente possibile avvicinare a questo sport quanta più gente possibile quindi ho parlato soltanto in termini di promozione non ho mai parlato in termini di risultati l'obiettivo dei 300 effettivamente me lo sono posto subito detto questo è un bellissimo lago una grande struttura c'è la possibilità che 300 persone possano rimanere su questo lago e l'abbiamo raggiunto dopo una decina di anni poi risultati agonistici sono la conseguenza po della filosofia che ho approntato cioè quella della ricerca del miglioramento individuale del consolidamento del dei fondamenti tecnici di un come dire di della crescita sotto il profilo anche umano del dei ragazzi e non soltanto quello atletico quindi sono la conseguenza di questa filosofia qui tra l'altro ecco 300 atleti su quanti sono gli abitanti di gavirate gli abitanti che non vorrei sbagliato dovrebbero essere intorno ai 10.000 penso se ci arrivano praticamente un abitante ogni poco più di 30 rema esatto a parte che arrivano non solo da gavirate arrivano tutti i paesi qui limiti effettivamente la provincia di varese abbastanza come densità abitativa abbastanza popolata e arrivano da biandronno da varese da come questi paesini che sono provincia nella provincia di varese sono ragazzi che effettivamente sono attratti un po perché ormai in che provincia si parla di canottaggio quindi sta diventando lo sport numero uno della provincia e quindi sono attratte incuriositi da questa disciplina poi si pratica l'aria aperta sul lago si parla sempre di lago si parla sempre di natura si parla anche di eventi sportivi sul lago per cui la gente interessata viene chiede porta i ragazzi soprattutto all'inizio della stagione scolastica per indirizzarli verso una disciplina sportiva noi li accogliamo senza nessuna forma di discriminazione piccoli alti bassi grassi cioè penso che poi lo sport sia un diritto di tutti quanti tra questi effettivamente negli anni durante la stagione cerchiamo di valorizzare quelli che sono i migliori talenti le migliori capacità e li cresciamo e li portiamo poi come dire a formare degli equipaggi perché il canottaggio è uno sport di squadra non è uno sport individuale quindi c'è il concetto sempre di squadra di equipaggio degli equipaggi che poi andranno a fare le gare nazionali ai campioni italiani dalla canottieri gavirate all'adaptive rowing siete partiti con tua moglie paola grizzetti ormai direi dieci anni fa o qualcosa anche di più e nel giro di qualche anno l'italia ha raggiunto risultati che la pongono all'eccellenza in questa settore importante della vita remiera quel che è chiaro però è che da pechino in avanti molti altri paesi hanno deciso di puntare di investire nell'adaptive rowing non è più sfida praticamente italia gran bretagna come era prima ma anche abbiamo visto una francia vincere nella giornata di sabato ben due medaglie d'oro anche altre squadre nazionali secondo te verso che direzione stiamo andando ma stiamo andando verso uno sport agonistico uno sport di prestazione c'è in ballo un'olimpiade la chiamiamo paralimpiade ma è l'olimpiade di questi ragazzi che sono a tutti gli effetti degli atleti degli atleti che sognano e desiderano di arrivare sulla sulla vetta delle olimpiadi quindi è uno sport agonistico come lo sport dei normodotati e di conseguenza tutti si stanno adeguando per portare a casa il miglior risultato chi ha un equipaggio lavora al massimo su quell'equipaggio chi riesce a avere una squadra completa come la gran bretagna qualche altra nazione lavorano sulla squadra completa noi siamo stati pionieri di questa disciplina effettivamente insieme a qualche altra nazione ricordo ancora quando in doppio si gareggiava in due in tre oggi si fanno le eliminatorie quando in quattro con si era in quattro e cinque oggi si alle olimpiade ne partecipano dodici quindi abbiamo fatto un bel percorso dal 2003 siamo arrivati fino all'olimpiade di pechino abbiamo conquistato un oro purtroppo gli atleti non è facile reperirlo sul territorio perché in italia non è come in altre nazioni non lo so come funziona però noi in italia facciamo molta fatica a trovare gli atleti ma soprattutto a trovare le atleti donne e ci stiamo attrezzando per poter fare meglio di noi adesso proveremo a qualificare quattro conne anche il singolo il doppio ha staccato i biglietti mondiali di bled si ripartirà col prossimo quadrieno sicuramente con qualcosa di nuovo perché questa disciplina sta diventando veramente stimolante dobbiamo attrezzarci per essere competitivi non so se sei d'accordo con me ma più che nell'attività dei normodotati in quella dei disabili c'è anche la difficoltà del trattenere gli atleti perché io ne ho preso atto verificando anche la situazione di altri sport ci sono campioni di più discipline atleti che magari fanno il canottaggio poi si rivolgono alla vela agli sport invernali insomma sono sportivi tutto l'anno e polivalenti ma sotto questo aspetto è bello passare da una disciplina all'altra il discorso è trattenerle entusiasmalo in quella disciplina e portarle avanti e dargli degli stimoli per continuare e ovvio ci vuole sicuramente un progetto un investimento e un sostegno a questi ragazzi che effettivamente ci sono ragazzi che poi anche lavorano non è che vivono soltanto di di aria quindi già la loro disabilità per loro la vita non è semplice poi dover lavorare dover conciliare lo sport diventa un pochino più difficile bisogna fare un progetto ad inizio stagione dove puntare su degli ipotetici talenti e portarli fino fino a termine la collaborazione che è stata portata avanti collina il progetto superabile ha dato anche buoni risponsi dato degli ottimi risponsi ma sicuramente i frutti li raccoglieremo da qui a qualche anno lo vedremo grazie giovanni calabrese grazie a voi